I flash dei cellulari illuminano il suo cammino, le preghiere dei tanti fedeli accorsi la accompagnano per le vie della città. Si è rinnovato anche questa notte il rito della Madonna addolorata, con la processione della Vergine che dalla chiesa di Santa Teresa è andata alla ricerca di suo figlio. Un rito che si ripete ogni anno e che nonostante questa tradizione milenaria conserva intatta l'emozione di un momento unico per i credenti. Ad accompagnare la Vergine lungo il percorso migliaia di fedeli, tra cui anche molti turisti. Le temperature miti di questa notte hanno reso piacevole l'attesa. Quest'anno però all'uscita della statua non è stato rispettato il religioso silenzio degli altri anni. Infatti un gruppo di ragazzi ha applaudito non appena la statua della Vergine ha iniziato il suo cammino, causando conseguenti fischi da parte dei presenti. Oltre questo spiacevole episodio la processione ha seguito il suo cammino senza nessun problema, tra preghiere, ringraziamenti o richieste di aiuto affidate a lei. Il venerdì santo si concluderà questa sera con la processione penitenziale dei misteri, a partire dalla Basilica Cattedrale.